La ricorrenza del 4 novembre è stata decisamente significativa per la città di Imola. Qui, infatti, per l'occasione, è stata di fatto inaugurata la nuova sede del monumento cittadino ai caduti in guerra. Come noto, il monumento è da diversi anni al centro di una feroce polemica, sfociata poi anche in un ancor più ingarbugliato, contenzioso legal-amministrativo. Il monumento, eretto nel cuore di Imola, cioè in piazza Matteotti negli anni 30, nel 2006 era stato smontato per fare posto ad una nuova sistemazione della piazza principale della città emolese. Una decisione che aveva provocato la vivace reazione di un comitato di cittadini. I successivi ricorsi al Tare e al Consiglio di Stato, con l'incrociarsi di sentenze ora in un senso ora nell'altro, aveva poi provocato il blocco, per diverso tempo, dei lavori della piazza, mentre il monumento giaceva smontato in un magazzino comunale, dove, in attesa di tempi migliori, è stato sottoposto ad un lungo, delicato e complesso lavoro di restauro. Arrivato, almeno si spera sia così, a conclusione il braccio di ferro legale, si è dato il via, nel marzo di quest'anno, alla sistemazione del monumento ai caduti nella nuova sede decisa dall'amministrazione comunale emolese, e cioè il Giardino Corti. Completata con la giornata di oggi questa fase, sarà poi la volta nell'immediato futuro della riqualificazione di tutta l'area verde.